Siano notati Gesù e Maria. Siamo nella prima settimana di Avvento, tempo in cui, come sappiamo, ci accompagnerà il profeta Esaia e anche abbastanza il Vangelo secondo Luca, che è tra gli evangelisti quello che più degli altri racconta bene gli episodi della infanzia di Gesù. Oggi il brano di Esaia del capitolo 11 è veramente molto bello perché è una delle più belle profezie messianiche della prima parte del testo di Esaia. Il germoglio che spunta dal tronco di Iesse, sapete che Iesse era il padre di Davide, quindi l'antenato di Gesù, che faceva parte della stessa tribù di Davide, della tribù di Giuda, viene profetizzato appunto che su questo germoglio misterioso si posa lo Spirito del Signore con i 17 doni, evidenza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, verità e timore di Dio, e si descrive parte di quella che sarebbe stata la personalità proprio di Gesù, non giudicare secondo le apparenze, non prendere decisioni per sentito dire, percuotere il violento con la verga della sua bocca e uccidere l'impio con il soffio delle sue rambra, questa è la potenza della sua parola, e poi soprattutto si preannuncia il regno messianico che avrebbe inaugurato. E qui lui l'ha inaugurato, però ancora non si è compiuto, perché queste scene meravigliose che sono profetizzate, queste cose le vedremo qui sulla Terra, perché certo che il paradiso è così, ma sulla Terra non è così. Avete mai visto un lupo di morale insieme con l'agnello? O un leopardo che si trae accanto al capretto? Ancora. O un leonicello e un vitello che pascolano insieme? Guidati da un fanciullo? Oppure che la mucca e l'orza pascolano insieme? O che il leone si cibba di paglia come il bue? Perché sta vicino a un bue, anziché fosse una bella magnata, se mangia l'erba come il bue, eppure sta scritto. O addirittura il bambino si trastulla sulla buca della vipera, mette la mano nel covo del serpente velenoso. Questo è proprio l'immagine del creato rinnovato al 100%. Ricordate che San Paolo nelle sue lettere dice che la creazione stessa geme e soffre sotto le doglie e il travaglio del parto perché avverte il riverbero del peccato dell'uomo. Cioè quello che l'uomo ha combinato non è soltanto qualcosa che fumava a noi e che altera il nostro rapporto con Dio e che altera i nostri rapporti tra di noi, ma ha violato e grandemente anche l'equilibrio del creato. Tante cose un po' così che si vedono un po' forti nella creazione sono imputabili misteriosamente ma realmente al peccato dell'uomo e il Messia questa cosa la viene completamente a ristabilire. Queste cose accadranno. Noi lo chiediamo, se fate attenzione, ogni giorno, diciamo nel Padre nostro c'è l'assegnato Gesù, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà a cominciare così in terra. Se chiediamo, vi dice, ma come? Il regno di Dio non è venuto. Perché poi Gesù è venuto. E Gesù è morto, è risorto. Però, come insegna la Chiesa, il regno di Dio è stato inaugurato da Gesù. Quindi ha preso inizio, si sta piano piano svolgendo e compiendo e avrà una sua fase di attuazione terrena. Sicuro? Perché il Signore non ci può far chiedere delle cose. Cioè, se ci mette in bocca una preghiera, quella preghiera non può rimanere senza essere esaudita. Ditemi un po' dove vedete in giro il regno di Dio e queste cose che ha proprietizzato Italia. Non ci sono al momento attuale. Non ci sono mai state. Tra duemila anni fino a oggi sicuramente ancora non ci stanno. Però sicuramente ci saranno. Ecco perché Gesù nel Vangelo dice Beati i vostri occhi che vedono ciò che voi vedete e le vostre orecchie che odono ciò che voi udite. Perché la sua venuta sulla terra è stato l'inizio della nuova creazione. In Lui è già perfettamente compiuto, in Gesù risorto è già perfettamente compiuto il piano salvifico di Dio. Solo che si deve compiere anche, nelle vicende della storia, nel suo corpo mistico che era chiesa e nel creato intero. Quindi questo è uno dei grandi temi dell'avvento. Per questo che il Chiesognano ci fa rivivere questo tempo, che non è semplicemente ricordarci lo detto alla domenica di domenica che Gesù è venuto duemila anni fa. Questa è una cosa certamente molto importante che va celebrata. Ma Gesù viene nel tempo, cioè c'è un suo attuarsi della sua opera che riguarda la vita terrena, questa dimensione. E questa la dobbiamo attendere con gioia e dobbiamo adesso cooperare con la nostra santificazione e con il nostro stare lontano più possibile dal peccato e soprattutto pregare, pregare, pregare. Perché questa cosa il Signore l'ha promessa, ce l'ha messa in bocca e sicuramente sorgerà il giorno in cui questo si vedrà. Non sappiamo quando, non sappiamo come, non sappiamo se lo vedremo o chi lo vedrà, ma questa cosa certamente sarà. Perché il nostro Signore questo è quello che ha fatto con la sua venuta sulla terra. La riconciliazione perfetta dell'uomo con Dio e degli uomini fra di loro e del creato intero nel suo Santissimo Sangue. Siano lodati Gesù e Maria. Siano lodati Gesù e Maria. Siano lodati Gesù e Maria.